sempre nel campo dolciario in un'azienda dove sono stata 23 anni e dopodiché per poco non ho preso un esaurimento perché non lavoravo più e dopodiché tramite un cugino abbiamo ho saputo che c'era questa aziendina probabilmente era possibile lavorarci e così è stato fatto mio marito faceva rappresentante lui vendeva e io lavoravo nell'azienda e così siamo andati avanti fino a che è subentrato mio figlio dopodiché gli anni sono passati è subentrato anche mio nipote